Care amiche, in esclusiva per voi i miei splendidi abiti della nuova collezione 2018 Una puntata davvero speciale oggi con degli abiti veramente particolari Che sono andati sul red carpet del settantesimo festival del cinema di Cannes Allora iniziamo col primo, uno splendido abito in saten rosso Con un bustino ricamato, con un pizzo francese ricamato a mano Un abito veramente speciale, se ti giri facciamo vedere guardate che abito E poi guardate che saten fantastico e che coda Un abito veramente speciale con una scollatura V dietro sulla schiena Meraviglioso E poi abbiamo un abito in organza di setta pura stampato Un'altra chicca indossata dalla splendida Matilda Un abito con un bellissimo pizzo sul centro vita Una scollatura particolare sul seno Una bellissima gonna tagliata a ruota intera nella parte posteriore Un abito meraviglioso Un abito abiti da red carpet della collezione Stefano Blandaleone Amin Un abito breaks Un abito Un abito Un abito Grazie a tutti.